Bu, rieccoci. Allora, sta andando? Sta andando. Come sempre, un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitchora, si torna dopo un piccolissimo periodo di inattività, di circa un giorno, un giorno e mezzo, boh, non mi ricordo, e si torna con Level Saga. Che cazzo sto dicendo con Level Saga? Madonna, è già partito il cervello. Con l'antologia, con l'antologia, con Dark Souls. Level Saga, probabilmente, piano questo cazzo di volume. Stavo per dire, Level Saga probabilmente, tornerà di pomeriggio, in questo caso. Oggi doppia live tattica per recuperare un po' il poco terreno perso. Perché di terreno perso non si può parlare, secondo me. E, come sempre, voglio ringraziare chi supporta su Twitch, chi supporta su YouTube, chi supporta al di fuori di Twitch, chi supporta al di fuori di YouTube, chi supporta nell'Area Life, eccetera, eccetera. Salve! Come, ringraziamo pure te? Ah, ciao. Sei tu che si tratta la bellissima di awakening? Sei il servizio primordiale, il Reino Sika-Fraat, amico amico del grande Lord Gwyn, chiuso non morto, che ha trattato la bellissima di awakening. Buongiorno, voglio elucidare il vostro fete. Hai cercato un tipo di enlightenment? Molto bene, allora sono piaciuto di condividere. Chiuso non morto, il vostro fete è di succedere il grande Lord Gwyn, paroloni. Ok, poi? Sto benissimo. Ah, oddio, si vuole giustamente lui far vendere le robe. Un attimino, qua vado a vedere. Il bot sta on, giusto? Boh. Boh, boh, boh. Credo di sì. Perché non vedo situazioni che vorrei vedere. Un attimino. Il bot sta on oppure non sta on? Vediamo. Un momento. Intanto vediamo il buon che vende qua. No, noi siamo a vendere. Medaglioni. Non venderei nulla onestamente. Ah, 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 sto scherzando. La moneta. McClough. Ok. Poi, a vendere mi fermerei onestamente. Ok. Dimmi altro. Ok. Cazzate. Non so quante volte l'ho superata. Basta. Basta. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo capito, amico. Ok. E... Volevo... All'inizio di sta... di sta live ci avevo pensato. Torna... Salve. Abbiamo un po' di... di compagnia. Oh, hello. Hello. I miei guesti sono finalmente arrivati. Spero di partire con loro in breve. Quindi... Spero di dire ciao a breve. È stato un piacere. È stato un piacere. Bugiardo. E lo so, amico. Però parlami di nuovo. Parlami! Oh, hello. Hello? Hello, there. Sì, lo so. No, no. Che Miracles è Miracles. State calmo. Cosa abbiamo qui? Tu sembri davvero raggedo. Il tempo è vero. Il più lato che puoi fare è sembrare troppo. Non potresti incontrare la mia signora così. Tu potresti scattarla per bene. Ma ti sei visto in faccia? Ma dai. Oh, tu di nuovo. Che business hai? Che business hai? Ci accompagniamo la mia signora per la missione. È un po' un problema. Ma io sono attrazione con lei. E anche con lei. Non posso abbandonare loro ora. Oh, è tu. Ci sono andata momenti. Le catacombe non è un'idea di un momento di certo. Ma cosa può fare? Mi spero che ci metto ancora. Rarir Nox. Rarir Nox. Oh, è tu. Ci sono andata a fare la catacombe. Ma cosa può fare? Come? Che senso? Come? Non penso aver capito. Va bene. Sono d'accordo. Hai ragione. L'hai spiegata l'urgenza? Va bene. La mia urgenza, invece, oltre che parlare con i nostri amici qua, come dicevo, era quella di tornare al rifugio dei non morti. Ci tocca. Ci tocca. Ci tocca. Ci tocca perché sto pensando se devo andare poi alla fortezza di Sen. Di conseguenza al Nor Londo. Io già voglio essere pronto come anche per andare al... Maledizione si chiama. Nel dipinto. E quindi sì. E quindi sì. E quindi sì. Abbiamo la chiave. Oh, non sia mai che non mi vado a... Ecco qua. Non sia mai che non lo becco al primo tentativo. Non sia mai. Mi siedo un attimino. Ci sediamo un attimo. E ripartiamo. Io aumenterei però un attimino qua. Ok. Va bene. No, perché non mi fido più di tanto. Quindi ok. Si va lontano anche un po'. No, che cazzo sto facendo? Devo scendere. Vabbè. No. No. Tra l'altro mi sono scordato che ancora sono in Midroll. Che meraviglia. Ce la facciamo! Cortesemente. Ok. E si salta. Ok. E possiamo andare finalmente. Rannicchiamoci. E attendiamo. Vediamo com'è qua intanto. L'audio. Piccola prova. Ci siamo. Va bene. Va bene. ач? Viola. Il rilassato. Viola. Viola. Ok Eccoci tornati al rifugio Dei non morti Qua Mazzate ci sono Ula Porca Eva il danno Io eviterei di schiattare Ok E non so se voglio stare in mid roll contro Però porcaccia la miseria Ok almeno stiamo in questa maniera Per ora Non so devo dire Guarda quanto è bello Tac Non vedo Tac Bello me lo doveva dare il colpo Me lo doveva dare il colpo Ah prima di cadere di sotto Onestamente E chi è questo soggetto così tanto Bah Prima di cadere di sotto Direi che cosa buona e giusta Esplorare Il rifugio Per intero E poi effettivamente lo chiudiamo con Il nostro caro Amico Allora Tanto Eccoli tornati I friends I cavalieri neri Bello questo perry Mi è piaciuto Forza Ok Danno Ci sta Ok E so cazzu di loro Ok No 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 Vai col liscio Guarda che ci muoio ora Prende una stronzata Dopo l'altra Scudo del cavaliere nero Io ho veramente Non ho parole Lo scudo del cavaliere nero Credibile sta roba Oh no Oliver Poraccio Ok Avanti Che cosa dobbiamo fare Allora Madonna Quanto è pesante Poraccio Povera anima Scudo cimiero Qua non abbiamo più niente Ok Qua al solito la palla che cade Al solito la palla che mi colpisce Insia mai che una volta non mi colpisca Insia mai Ok Ok Vamo passare Grazie Ok Yup Wow Va bene Andiamo Anello di ferro rugginito Ok Direi che possiamo tornare sotto E andare da questo lato questa volta Oh che palle Altro? Cavaliere nero? Yes Vediamo se superati i 20 minuti Il bot non dà i comandi in autonomia Li metto io Anche se è un po' strano Dovrebbe Normalmente dovrebbe farlo da solo Però vabbè Sti cazzo lì Chi è? Spadone? Mi prende per il culo? Mi prende per il culo? Un altro scudo? Mi prende per il culo? Pensa di essere divertente? Perché lui è davvero poco Cioè Voglio dire Va bene Altro scudo Va bene Ok Non è destino Non è destino Vuol dire D'accordo Va bene così A questo punto mi sa che effettivamente Mi posso concentrare sul boss E vediamo Boss che se essere davvero pericoloso Se vuole Davvero pericoloso Si deve scendere Forse un po' troppo avanti sono andato Salve Com'è? Demone vagante Ok 141 Beh è un danno un po' Un po' Un po' bassino Per dirla Per dirla pulita Vorrei evitare Di rimanere Incastrato Ok No Via Basta Spammare Però Vai Vola via No Colpiamolo però Via Io mi curerei Perché non so Onestamente Penso possa anche Shottarmi Occhio Vai via Ok No Merda Brutto Mi sono finito Sono finito Incastrato Mi ero incastrato Va bene Ok Ok Vola Ok Ah è finita la Vida forza interiore Madonna il danno Si è incastrato Perfetto Ula Ok Rivola Ok Ho esagerato Ok No Ok Ok Così A sbruffo Però Non capisco Continuo a non capire Perché Un attimo Allora Boh Vabbè Li metto Li metto Proprio In manuale L'altra volta Erano partiti Ora Non Non vanno I comandi Automatici No problem Li mettiamo Alla Old way E Ok Poi quando vuole Si sveglia Il bot E fa il suo lavoro Tanto contento Va bene così Comunque Allora andiamo Cosa sto facendo Togli sta cazzo De cosa Non la togli Vabbè Bene così Oggi Dramma 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 Iniziale Questa live Dramma Iniziale Uff Tutto tattico Sempre E via Tuttino ancora Oddio in realtà Sto pensando Forse prima Voglio Ho fatto Va bene Il rifugio E questo Andava ok Era ok Come discorso Forse Il Qualcos'altro Mi ero scordato Ah ok Il Di cosa Mi ero dimenticato Stiamo a Trento Ormai Del Forse Del Dell'idra Dell'idra Lo volevo combattere E poi l'ho dimenticato Quindi Andiamo dall'idra Facciamo un po' di Un po' di Clean up No Generale Della zona Colpendo anche I nemici Possibilmente Aia Ok E si torna Viaggio rapido Questo Servizio rapido E un Uber Moderno Più che moderno Più moderno Dell'Uber Ok Tornati Adesso Ci risiediamo Un attimo E andiamo Di qua No aspetta Dove minchia Sto andando Io Ho avuto un momento Di Da Sopra A London Church Di qua Come sono andati Come sono andati Come sono andati Come sono andati Non c'è traccia Petrus Finiscire di raccontare Cazzate Ho capito Che bugiardo Non parlavamo Di miracoli Comunque Ma va bene Ora andiamo Ok Ti è No Tristezza Quel liscio Ai ai Quindi andiamo A fare L'idra Fatto L'idra Ci si può Dirigere Effettivamente Al Alla fortezza Di Sen Eh Ma Posso Non gliel'avevo dato Però non penso Di avere Ti teniti grandi Te lo presto Te lo presto Magnificent Oddio Oddio non ne ho sette Va bene E allora andiamo 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 Necessario Me ne mancano due Ti teniti grandi Ok Non ti senti Scusi Ecco perché mi sembrava Deboluccia l'arma Perché ancora non l'avevo Non l'avevo Upgradata Ok Ok E ora tutt'altra storia Tutt'altra storia Per forza Per forza Devi arrivare tu Gli cazzacci tuoi Non puoi Vero? Mai Allora Bacino Radice oscura Mua Allora Quindi scendiamo Scendiamo In questa maniera Siamo distrutti Danni da caduta Sono clamorosi Va bene Yes Mi devo fiaschettare E ora Attenzione Perché qui A prenderle Ci vuole veramente Poco in realtà Grande anima Ah ora è partito Comunque il bot Porca Mignotta Incredibile Sì Sì Ora è partito Tutto in una volta Stavo guardando la chat Il bot Stavo guardando Vabbè Funziona Almeno questo Però Poteva partire Una Dieci Se Almeno Venti Più o meno Venti Minuti Prima Occhio Ulla Ok Forza Uh Ok E grande Attenzione Agli stronzoni Qua No No Non devi sparare Non devi sparare Consapevole Di questa cosa Eh io li devo togliere Di mezzo Però loro Che sono Una gran rottura Esatto Di coglioni Ok Ok Dai Manco si sono visti Non vedo una minchia Non vedo una minchia Cioè Non vedo niente Io Perché sparate Dovete Dovete Attaccare Madonna Che posizione Di merda Per combattere Io A chi Attacco Scusa Bello Davvero Che bello Non vedo niente Che dramma Io non so se lo sto Se lo colpisco Ok Dai No E spara Per favore E' andato No Madonna Occio Finire di sotto E' un attimo Oh Non ci credo L'ultima Forza Forza Con sta Testazza Dai 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 Ma dove Stai andando Anche perché Non so dove Finisce qua Il Ma qualcuno Mi può Spiegare dove Minchia Sta andando Puoi venire Dove sto io Scusate C'è un piccolo Un piccolo Problema Abbiamo C'è un piccolo Disagio In atto Ma non è che puoi attaccare me Cioè Devo Beccarlo Nel momento Io sono Sono semplicemente Senza le Parole Gioco di merda Gioco di merda Questo posso dire No vabbè Oh Gesù Non è possibile Questa roba Mamma mia Mamma mia Vabbè Si può dire Che sto Sto Combattimento È una Una schifezza Per come si era Incastrato Tra l'altro Lui Dai Non è possibile Dai Non è possibile Dai Non è possibile Davvero Oh Va bene Va bene Lo accetto Ok Andiamo Meraviglia E diciamo Che questa cosa Mi ha fatto girare Non un po' Qui coglioni Cioè Onestamente Onestamente Va bene Così Non vedo Una sega Ah ma che bel Che bel combattimento Comunque Io libererei Prima Sti stronzi Perché sono Una roba Abbastanza Fastidio Vi giuro Vi giuro Vi giuro Vi giuro Mi sta portando All'esaurimento Mi sta portando all'esaurimento Questo combattimento Che è fatto così Di merda Onestamente Ok Ok Non devi sputare Mi devi attaccare Niente Niente Porca puttana Calma Calma Cioè Voi vi rendete Conto che le teste Si incastrano Nelle pareti Niente Io non Mai Mai avuto Difficoltà Con l'idra Guarda Ma guarda qua Ma Ma che cazzo è serio Onestamente No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè Andiamo calmi Vabbè Cos'è L'ultima Eh lui sputa Sì È un È un Proprio Geniale Dai No ma Scusate Un attimino Non Mi sto Perdendo Mi sto Un attimo Perdendo Come dovrei fare A colpirti Esattamente Cioè Devo Beccare Il momento Ma mai Succesa Sta roba È così Casuale Io Ok Grazie a Dio Non lo farò più Libra Non lo tocco Più Veramente Una roba Atroce Una roba Atroce Una roba Schifosissima Mamma mia Che porcheria Che porcheria Mamma mia Veramente Che roba Malfatta Poco studiata Disgraziatamente Schifosa Qua deve Spawnare Il nostro Il nostro Amico Mamma mia Che brutta Roba Vabbè Hai Ste cazza Rola De botte Al microfono Piano Spostiamolo Un pochino Più che altro Ok Salve Questo è Bello Tosto Dei ricordi Che ho Ok Ma oddio Realmente No Ok Ricordi Sbagliati Salve Dusk Libri Mis No 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 Sì, sono felice di un uomo. Allora chiuso. Ingravo la mia signatura. Se tu sei in necessità, prego di summonermi dalla mia signatura. Sembra che il mio tempo è fatto. Poi la grande flama guidata. Non ci è molto utile Dusk realmente. Ah, Gesù. Dove stava il segno? Teoria. Oddio, forse devo riquittare. Che bella roba. Quittiamo. E via. Miracolo, guida. Eccola. Parlami. Sì, sono Dusk of Ulysseal. È un'onere di vedere te ancora. Spero seguire i tuoi esperimenti. Inchino profondo. Cos'è da dirmi? Sì. 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 Meraviglioso. Meraviglioso. Va bene. Va bene. Invisibilità. Luce riparare. Camaleonte. Arma invisibile. E il catalizzatore di Ulysseal. Se io torno di qua. C'era la scala. Esploriamo un po'. Esploriamo un po' la... La zona, no? Tornere un attimino di qua. Prima della scala, però... Se magari evitiamo di bloccarci su niente. Cortesemente. Grazie. Lo dico qua. Aiee sta... Eccolo. Il drop. Vuoi correre, porca miseria. Ah, che meraviglia. La roba di Dusk. Ok. Lentezza disumana. Ullalalalala. Dai. Dai. Dai che ce la facciamo. 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 La scala. Questa. Aia. Ok. La scala è infinita. Ok. È finita. Qua. E andiamo. Un'altra scala. Va bene. Qua abbiamo... Ah, il mio guerriero correggioso. Cazzo, sarò là qui dove stavano i... I gatti quelli malvagi, maligni. Che non ricordo. Ma credo che sì. Ok. Il giardino va bene. Se vado di qua... Vabbè, ci sono i nostri... Amici che non muoiono shottati. Interessante. Però sono molto più cazzuti e cattivi a quanto pare. Ok. Ti ho sentito. Ti ho sentito. Ho capito. Allora. No. Ula. Oh, cazzarola. Ho capito dove siamo. Ho capito sì dove siamo. Va bene. Climenti per il danno. È lui! Quest'albero! Bruttissima roba questa. Ah, ma... Cioè, ma veramente? No, 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 no. Sai che forse sono... Che devo fare? Scusate. Praticamente è un... Ok. Ok. Va bene. Stavo andando... Malissimo. Salve. Ma tutti sti danni! Ma non vi sto capendo adesso. Perché? Perché ha fatto quella roba? Ma qualcuno mi può dare delle spiegazioni? Non ci provare. Ok. Va bene. Bastardaccio! Uh! L'arco di Faris. E il cappello. Ok. Ok. Oddio. Un po' mi preoccupa la zona. Se devo essere pretty honest... Ah, ho capito. Madonna, i passi dietro! Mi sono cagato addosso! Nooo! No, 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 no. Un attimo. Un attimo. Un attimo, un attimo. Un attimo. Non ci provare! Com'è fatto a non morire? Questa cosa che ti devi curare perché siete chierici, la dovete... Ve la dovete dimenticare, sai? C'è. Eh, voglio dire... Sapete che facciamo? Perché ho capito dove siamo effettivamente. Salve! Is it not so... Is it not so... I don't know. Thou fared well to find me. That cometh thee not for the grave of Sir Artorius. My advice true... Forget this! Forget this! The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have gotten had respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Sì? Sì? Alvina Alvina E perché no? E stringiamo sto patto Dopo avermi fatto massacrare tutti quanti stringiamo il patto, va bene Anello patto del gatto Va bene Va bene Va bene Regola d'oro Aia La fa dura lei, la fa dura Ok Altro? Come va? Va bene Dicevo Questa è la strada per andare a combattere Sif Nel mentre che ci siamo Siccome abbiamo... Così possiamo anche evitare di spendere 20.000 anime per il cimiero Per il cimelio Per il... Che cazzo ho detto? Il cimelio Il cimelio, sì Cimelio Per il cimelio Eh guarda che... Che famiglie felici Le famiglie dei funghi Ricordo che in zona... Eccolo Scusate Scusate Con permesso Questi tirano delle... Esattamente Stavo per dire delle sleppe scandalose Guarda che ci muoio Guarda che ci muoio Due colpi di funghi mi hanno tirato giù Mike Tyson, cazzo Via Per favore, via Ok No perché veramente Mi hanno devastato Ok Ma io sono un pirla Giusto? Forse no No ok non lo sono Non ci vuole il cimelio per aprire questa Non ci vuole E l'altra Ok Ho avuto un momento di... Un lapsus Allora Ora con molta calma Prima andiamo dietro A prendere L'anello Del calabrone E poi Fight La pericolata Con'è? Vecchio amico Dai Lo stai Ok Non vedo Tac Voraccio Sif Mi dispiace anche Dai 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 Ok No perché mi hai hittato Volevamo farla no hit praticamente Vabbè Pazienza Ero quasi sul no hit Il cazzo va bene a sto punto due colpi Questi sono Vai attacca Ok Ok Madonna che tristezza adesso Ahiai C'è guarda Pauro bau bau Non ce la fa più Rip Eh vabbè Fatto la storia Se anima di si Eh vabbè Annata così Allora Direi di usare Tanto riposare le umanità Di mettere l'osso del ritorno Che usiamo ora Volendo Sì Ok Aventere di livello Qualche livellino si può fare Del tipo Ok Va bene Facciamo così E penso di poter mettere stavolta Giusto Oddio Cavaliere d'elite Sì No Porca mignotta Ma Vabbè Il coso me l'aspettavo L'elmo di poter I guanti Non l'elmo di poterli mettere Va bene Oh Gesù La fortezza di Sen Questo Questa zona la puoi conoscere Quanto vuoi Ma ti fotterà sempre Per un motivo O per l'altro Dai Ok Anche perché i danni In questa zona Non è che cominciano ad essere così I loro sempre Devo dire che sono Interessanti I loro danni Quelli che faccio io Non sono più tanto crispy Anima guerriero coraggioso Ok Con le re due ti stunno? Dimmi di sì No Sì Sì? No Bello Bello Con le re due Non lo stunniamo Meraviglia Allora Dai Ok Boom Tac Madonna Stavo cadendo Attiviamo la trappolozza Prendiamo le due Titaniti grandi Che servono A sto punto A portare più dieci L'arma Ok Va bene Andiamo Timing un po' così Ok Via Schiatta Schiatta Qua che abbiamo Safe Anello protezione d'acciaio Va bene E qua sotto Dovremmo avere il nostro Cipollotto preferito Eccolo lì Oltre che ad una shuttle Vediamo se riusciamo a snickare dietro Le palle Ok Chi hai da dire? Eccolo 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 E può essere Meraviglioso Sig Rotolare Mi girerebbe la testa Sei bello No non ci provare Ti aiuto io Sig Tranquillo E intanto qua liberiamo un po' la situation Da questi bastardo mi doveva prendere per forza Da questi stronzoni E via Ti aiuto io Sig No problem Madonna Ok Dai scendi Ok E via Allora Salve La devi fare la combo Perché giustamente poi non dormi Se non la fai Ok Altre palle abbiamo Altre palle Palle su palle Ok E aspettiamo Che scendano le palle Dai Dai su Ok L'ultima O la penultima Ok Ok Oh madonna Oh l'ultimo Ok Dai Oh Grazie Questo Non si sa mai E via Allora Ti sembro Stronzo Ti sembro Stronzo Ok Lancia del fulmine No Vabbè Aspettiamo E' tutto Un aspettare La fortezza di Senna E' un aspettare Continuo Va bene Mo Saliamo Ok Allora No Questa non si apre Da questo lato Di qua Ora io non mi ricordo Di preciso Se devo mandarla In un punto Specifico Per aiutare Sig Vabbè Ne mandiamo una di qua Così Diciamo che ne mandiamo Una in ogni direzione Ok Ora ne mandiamo Una di qua Facciamo 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 due Di qua Sì Proprio Per andare sul sicuro Ok E la teniamo di qua E basta Va bene Via Altre Trappolozze Abbastanza Leggibili Ok Salve Oh porca merda Che cos'era Questo slancio No vedi Questa è una roba Che non deve mai succedere Terribile Aspetta Per i qua Succede il dramma Si incastra Nel muro E' finita Abbiamo un problema Houston Ok Ok Ora molta calma Qua Estrema calma Ok Perfetto Mi doveva colpire Mi doveva colpire Mi doveva colpire Giustamente E' pagato per quello Quindi non è che Può fare altro Ha ragione lui Ha ragione lui E siamo fuori Oddio fuori Relativamente fuori Salve Un comeback Vedi evitiamo di farci massacrare Dai soldati di balder Ok Titanite Bello Qua c'è un altro Qua ce n'è un altro Bim Speriamo questo E abbiamo L'anello Pietro Pietro L'anello Pietro Vi presento Pietro Vi presento l'anello Pietro Della fiamma Aiai Ora saliamo Sbum Ma via il bordello Scende di qua Ok E ci si siede Partiamo Questa qui è una piccola Piccola shortcut Comoda comoda Si sa mai Altre due Di titanite grande Salve Com'è Pezzo di Che dici Posso Posso muovermi Possiamo Ok Grazie Ok 300 anime Troppi Nulla Grande Ok Perfetto Va bene Si scivola di sotto Ricard Coraccio Ok Ok Ed è schiattato Ricard 4000 anime Interessante Anello raro Del sacrificio Questo servirà E la benedizione divina Ok Possiamo Continuare Il nostro Il nostro Viaggio Il nostro Tragitto Uff Salve com'è Ora sto salto Io 99 volte Su 100 Ok Non sbaglio Stavo per dire Mi è andato Dai Tarkas Che Cosa Chi sei tu Cerca dell'anima Di verde grande Ok Vende un po' di roba Il set di Catarina Il set dei cipollotti Lui vende E degli anelli Ottimista 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 Tarkas Va bene Sì Ti ringrazio Ti ringrazio per i consigli Davvero Davvero proprio Consigli Fraterni Quasi Va bene Da amico Da amico Parlava Tarkas Sì Sì Il moveset A due mani Ma io Sono in un dubbio Terrificante No ok Va bene Il moveset A due mani Della Della Claymore Ci sta E non ci sta Non mi fa impazzire Preferisco A livello di moveset La preferisco Ad una mano Effettivamente Però Quel danno ridotto Non mi fa impazzire Poi Come non detto Come sempre Come sempre D'altronde Sia mai Sia mai Sia mai Che lo azzecco Sto salto Sia mai Che per un motivo O per l'altro Va come deve andare Che cazzata Va bene Ok Allora Uh Devo grattare Ok Vedete che Sti giganti Sono una discreta Dottura di palle Dai Ma Ma Porca Puttanazza Porca Pupazza Chiave Della gabbia Questa Nella logica Dovrebbe essere Una shortcut Che però Avendo il Il falocco Qua vicino Non serve Non serve Così tanto Effettivamente O comunque Se uno vuole scendere Velocemente Si Non so Qualsiasi tipo di Di necessità E' lì Però C'è anche il falocco Vicino Qua vicino Salve Ecco Sti calci Sta violenza Diamo Due colpetti Che non Sia mai Ci sono dati Un po' Troppi Ok Ula Sei incazzato Incazzato Sei incazzato Sei imbestialito Ok Poraccio Boom E tu droppi Pezzo di titanite Questi servono Questi servono Poi Per potenziare Ulteriormente La nostra bambina A questo punto Direi che si può andare Dal boss Qui dentro Normalmente Da umano Si può evocare Tarkas Però siamo non morti Quindi Stica Intanto da qua Si può anche vedere Il boss Il golem Di ferro E via Bene 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 Ok Diamo di forza Interiore No Non esageriamo Bello 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 Davvero No Questa è la presa Bruttissima roba Ok Potresti più o meno Cadere No Volendo Ok Per lì per lì Per cadere Sei caduto In un punto No di merda Di più Fatelo dire Vabbè In una zona Inutile È caduto Poco male Nucleo Di un golem Di ferro Ed Un'umanità E che Considerando Il drenaggio Della vita Io userei A questo punto Non si sa mai Ok Ok E si va Ad Anor Londo Un po' Un po' Ok 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 I'll Ch 댓 Che meraviglia Che meraviglia da vedere, da giocare Diciamo che a Norlondo Bah Bastardella a tratti Va bene Andiamo Guarda qua che c'è Eh vabbè Salve Cazzo è finita, è il momento peggiore Forza interiore Com'è il danno? Si può fare No La ho ed è lo scudo, ovviamente mi ha danneggiato Guarda che droppi magari Ma nemmeno per no Ora Vieni No, tutti e due non dovevate Non dovevate fare questa roba Non dovevate Facciamo una cosa Io prendo il drop In maniera molto tranquilla E mi sa che ci schiatto Sai? Uh vabbè Bruttissima Bruttissima Mi sono incastrato Non vedo una sega Ok Via 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 Non facciamo Non facciamo cazzate di questo tipo Please Andiamo via Ok Facciamola 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 easy Ecco Allora Salve Voglio dire Un attimo Non si livella Non ne ho anime Si Rivelliamo Aia Maschina Ok Rivelliamo E si continua Sulla scia Al solito Si Oddio Mi sa che Mi sa che la stamina Forse No ok Ancora non si è raggiunto Il cap No Va bene Andiamo in questa maniera Ok Lo posso mettere L'elmo Stavolta Cioè Voglio dire Ancora no Niente Incredibile Incredibile Dimmi Una rivelazione Potenzia ma non abbiamo No infatti What is it What is it Well I am the keeper Of the bonfire If not for me What beacon Would there be In this lost city A gatekeeper And a guide That is my calling Your calling Già fatto Già riposato Vedi quanto è fresco Guarda quanto è fresco Meraviglioso Va bene Va bene Sì sì Già fatto Allora Anorlondo Anorlondo è una fetta di culo Particolare Però prima Di esplorare Per bene Anorlondo L'idea è quella Di entrare Nel dipinto Avendo preso La bambolina Quindi va bene Facciamo le cose In un certo Con un certo criterio Con un certo ordine Ci rincontriamo Vi è c'è Magari se scendi Combattiamo pure Alla pari Non vedo Ok Non è che ti si può tagliare la Sarai stronzo Non ti vedo Grazie Porca mignotta Vabbè vai vai a Vai a cagare Cortesemente Allora Scendo di qua Doveva esserci Qualcosina Giusto? Eh sì Ti tenite nel demone Schifo non fa Oh madonna Ste party E vabbè Qua la telecamera Comincia ad impazzire Ad un tratto No Non l'ha fatto Via Ok Loro Tranquilli Lui Lui L'ha capito Va bene Droppato Coltellini da lancio Ti è No Ok Droppi No Adesso Momento Vertigini Ok A quanto è quotata La La frittata Non lo so Vediamo Dai No 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 Tu devi fare i tuoi passi Non mi sposto da qua Non l'hai capito Non ci siamo capiti Puoi tirare quei coltellini Fin quanto vuoi Bravo Hai capito Dai Saltello Sei uno stronzo Sei un disgraziato Sei un grandissimo disgraziato Siamo bloccati qua a vita Siamo bloccati qua a vita Che merda di situazione Ma tu sei un pazzo scatenato Ma tu sei un pazzo esaurito Cosa stai facendo Ma guarda Cosa cazzo Stai facendo Ma ti riprendi Un attimo Questo è un No Non ci posso credere Che sta succedendo Questa roba Mai vista Una roba del genere Mai vista Una situazione Del genere Allora Via coraggio Ok Non cade Non cade Lui non cade Lui non cade Non mangia Jack Porca merda Gandalf Fuggite Sciocchi Ed è spaunato Ed è spaunato In volo Tristezza Ok Ed era solo il primo stronzo Questo Con attacco pesante Non fai l'affondo dritto Cazzo hai ragione Hai ragione Grazie Gorgonazza Hai ragione Effettivamente si C'è l'affondo dritto L'avevo dimenticato Che in questa situazione Forse è più Più indicato In realtà L'idea Era quella di Loro fanno il saltella Ad un certo punto E quindi Magari Almeno È andata sempre In quella maniera Saltellando Loro si tirano sotto Da soli Evita di cadere Evita di cadere Giustamente Perché se no Non abbiamo fatto niente Tipo no Magari come Smettessi di lanciare Sti cazzo di coltelli No Ecco qua Tutti e due Il dramma Il dramma Affondo dritto Ok Affondo dritto Affondo 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 io Affondo io Affondo io Affondo io Affondo dritto Basta 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 Hai finito Ti tirare sti cazzi I coltelli Vieni Vieni Via c'è Dai Va bene A un certo punto Dovresti capire Che non fai nulla Dai Ecco Questo Questo io intendevo Questa loro manovra Intelligentissima Il tirarsi di sotto Va bene Dai È andata Quindi Qua abbiamo due Due paia di Un paio di Minnazze Esatte Sì sì Era quella La way Effettivamente Allora Prima di calarci Via nella nebbia Minchia Minchie Affondo Affondo Ok È vero È vero L'affondo L'affondo In queste In queste zone Un po' Un po' Sibilline Aiuta Effettivamente Allora Ah giusto Giusto Ok Volevo tirarmi Dall'altro lato Sì Di qua Piedi No Niente Messaggi Illeggibili Ok Ma con No Ok A due mani Fa il Il fendente Effettivamente Ok Minchia In che senso No 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 aspetta In che senso Non penso di aver Non penso di aver Non penso di aver capito Mi sono Non ho capito il gioco Mi sono perso un attimo Mi sono girato un attimo E me l'ha messa In quel In quel posto Va bene Meraviglioso Che soddisfazione Benedizione divina Tutto per una benedizione divina Va bene Si sta Torniamo Dove eravamo prima Ok Madonna La paura E stavolta Andiamo nella nebbia Stavolta Si prosegue Nella nebbia Via Allora Se tiro Devo Sì La devo tirare Yes Cazzin Ok E teoricamente Andando di sotto Porca merda Vero Abbiamo il fratellino Qua Dai Che zona di merda Per combatterti Per combatterti Ok Va Via la coda Non vedo una sega Vedo una sega Grazie Vabbè potrei dire se non ricordo male Si 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 no infatti E infatti è infatti qua E' andata E' andata e ha droppato praticamente tutta la Tutta la sua roba L'eredità ha droppato praticamente Anche la casa Allora Ok E di qua effettivamente dove Volevo andare Volevo andare io Ok Salve Minchia Basta con sti coltellazzi Scherzare Facciamo ste Ste cose Ma loro hanno i coltelli homing Non ho capito Cioè hanno sta Una curvatura Nel Nel lancio del coltellino Che figlio di puttana Che Non ci provare Che dobbiamo fare Ok Rotola 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 Franchi Droppi No Tie No E tie E qua ci siamo E là Coltelli da lancio Che non userò mai Ma qua ci aspettano Quello loro sono posizionati Sono informazioni Power Rangers I tre stronzi bianchi Ok No Questi stirolle Non mi piacciono Dovete stare molto tranquilli E forse in queste situazioni In base a come si muovono Infatti Tenchiamo 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 Però non troppo Tenchiamo Ma non troppo Basta sti minchia Di coltelli Ok Dai Camperiamo Dove sta andando Lo vedo Lo avevo confuso Via Dai 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 Va bene Va bene Ma tutto a posto Che sta posizione Un po' Va bene Allora Allora Coltelli da lancio 5 Arma magica Migliorata Giusto Per uno che non usa magia È il top Effettivamente Dai Saltella Bravo Rotola rotola E qua E qua abbiamo La roba Del povero Del povero Tarkas Poraccio Rip Ai 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 Entriamo In un posto di merda Ecco Succhiati dentro Il dipinto Oh madonna Sta zona Io Ricordi Ricordi Tragici Di questa zona Tragici Tragici Tragedie Rotelloni Culi Di drago Softlock Con Priscilla Drammi 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 Veramente Drammi Orgasmi Cioè Non Considerando La zona Io farei Una roba Interessantissima Ovvero Tornare umano E ravvivare La fiamma Che è una cosa Giusta Più che giusta Quindi Ok E Via Qua pure Questi disgraziati Sono forti Guarda lì Ok 300 anime Annemico Ha Disperato Qua Ok Questo Alt 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 E che magari Non è che magari Lo so che non lo posso usare Lo so che non lo posso usare Ok È tipo la corda Oppure La corda Perfetto Togli sta caponata E via Questa cos'è? Umanità Worth it Spara Gra Mi ha preso Che figlio Di Di una baldracca Non morta Ok Aia Le robe Tumorifiche No Tossicità Parole Guarda Non ho parole Guarda Non ho parole Cominciamo con la tossicità Con Con lo schifo Ora Un po' più Via No Vai Via Ok Anima Cavaliere Valoroso Sento Sento versi Sento versi Ah Voi? Te vareva Te vareva Te vareva Ah Queste Bastarde Ok Ula Guarda come si avvicina R2 R2 For the win R2 Non perdono l'equilibrio Drama Ok Una volta lo perdono Una volta no Che bello No R2 For the win Quella non è schiattata Cosa fai? Ok E ok Dagli tutta 2000 2000 anime Ulla Ci sta Dove Se può Tipo Ok Hanno sto Cazzo Di scatto Che non ha Senso Allora Ma che è sto Verso? Che cosa sto Sentendo io? Ah i sorci I sorci I sorci Albini Almeno penso Siano loro Ok 400 Anime Anime Guerriero Coraggioso Ok 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 Oh Salve Tu Via Merda Il trappolozzo Il trappolozzo Il trappolozzo Non morto Non era necessario Il backstab Bella questa zona Bella Mi piace davvero Interessante Non è che con un R2 No Vorrei evitare Di farmi Ok Più o meno Infinocchiare Ok No Minchia Wow Calma Allora Salendo Va bene Non ho più Non ho più nulla da dire Onestamente Lì c'è uno di questi Stronzi Lì c'è un drop Salto tattico Ok Anime guerriero Coraggioso Una scala Ok Aspetta Prima della scala Infatti L'uovo L'uovo Vermifugo Quello che interessava Al nostro Amico Scendiamo La scala Così 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 La smetti E Che magari Dietro Fanno Di queste Imboscate No Ok Altri Sorci Spacchiamo Tutto E questo Era Ah il set Dei Power Rangers Ok Interessante Qua è il nulla Qua è il nulla Qui il nulla Cosmico Il nulla Cosmico Va bene Mi piace Ci sta Risaliamo La china E La vedo un drop Allora Ok Via tu Che magari No Ok E Aia 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 Cosa Teniamo Qua Aspetta Non è che Magari Si può Fare Questa Roba Del Tipo Vorrei Provare A Non fare Questo Che però Che però Ci ha fatto Guadagnare Un'anima Va benissimo Va bene Dai Tanto Tanto Di Guadagnato E Oh merda Che non mi era partito il salto Direi di tornare là Questa è dove c'era la scala Sì E risaliamo Ancora la parte che deve Che mi sta sulle palle Oddio Deve arrivare Effettivamente Voglio andare Allora prima del culo di drago Realmente Porca Eva Mi sono cacato addosso Non l'ho sentita Completamente Però Nice Sesso Vabbè Ricordo Della rappresaglia Mamma mia Sì Volevo scendere Questa non è una di quelle Nebbie Malefiche No È quella che porta Alla piazza Negli stronzoni Con le lance Ok 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 Ci siamo Loro non dovrebbero dare un brutto numero di anime Giusto? No Per nulla Però magari evitiamo di farci Di farci Di farci Di farci In chiappetta Facciamo una cosa Siccome qua c'è la porta Della Shortcats Shortcats La apriamo Così almeno stiamo belli Sereni e tranquilli Nel frattempo si livella Perché no 32.000 anime Faccio Me ne privo? Assolutamente Quindi Anime le abbiamo Quindi le usiamo pure 4.000 3.000 9.000 9.000 Fammi indovinare 15.000 Sono uno stronzo E via Eeeh Ma Considerando Come ripeto Sempre La build è più o meno Questa Ormai Punterei Sempre Sulla Almeno Fino a raggiungere Il possibile cap No? Abilità e stamina Però Di aumentare la forza Penso che ne valga la pena Considerando Che ancora Deve essere potenziata L'arma di suo La vita mi sembra Più o meno Arrivata Dipende dove scala la claymore Per forza Per la forza Sì 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 Eeeh No Infatti volevo capire poi A livello di Quelli che potevano essere Gli altri potenziamenti A seguire Quanto poteva continuare A scalare Ulteriormente Scusate Un attimo C per ora Però è più un 9 Non mi ricordo Aumenta lo scaling Oltre Questo più un 9 Mmm Sai che ti dico Sai che ti dico Allora Io metterei Sti due punti a stamina Per ora Nella speranza Nella speranza Di intanto poter mettere l'elmo È una cosa che sto provando Dai è il momento Porca merda Niente Da inizio il gioco Che non posso usare Il set completo Va bene Eeeh No E il prossimo A questo punto A forza E lo vedo un po' Un po' perplesso Il signore qua Ok Eh sì I prossimi a forza E almeno Cominciamo un attimo A A smuovere Quanto hai di peso Ma non lo so Quanto ho di peso C'è c'ho 133 di peso Con Anello di Avel Più l'anello della protezione Con tutto che ho L'anello di Avel L'anello della protezione 34 punti a stamina Continua a stare in midroll Non mi ricordo Se aumenta la C Eh E quella è la roba E quella è la roba Che un po' Mi Mi frena attualmente Il possibile Non aumentare Da Il possibile Non smuoversi Da quella C Non lo so Non lo so Non lo so Onestamente Quindi Per ora Metti A meravaria Un attimo Metti su Le statistiche Eeeh C'è Io Allora 20 Merda Geremia Un attimo Geremia E sta per ora C a C Sta C C Forza destrezza C C Non credo Non Non mi sembra Aumenti Non mi sembra Devi stare attento Ah E 3.3 Per il fast roll Eeeh 3.3 Per il fast roll Per quanto avevo Non ci ho fatto caso Ora Aspettiamo un attimo Ora ricontrollo Un attimo Liberiamo Geremia Ok 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 si 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 Quanto è che pesa? 3.7 Tu mi stai dicendo Che se metto Questo Ma che ma davvero? Cioè Per questione di cosa? Di Di uno Zero virgola Di uno Zero virgola Una ciolla Togli i guanti E metti l'elmo In effetti Potrebbe essere Anche più Tipo così Sì sì Funziona Effettivamente Vabbè Funziona Allora Considerando che Il buon Geremia Mi ha Donato le sue Più o meno 30.000 anime 29 qualcosa Mila Sai che ti dico? Sto punticino In maniera Molto strategica Chiudiamo la stamina A sto punto Teoricamente Così Dovremmo essere Sul sicuro E buttiamo Il resto Poi a A forza Cioè A forza Vediamo Vediamo se I miei calcoli Un po' stronzo Un po' stronzo Un po' stronzo Io Un po' stronzo Dark Souls Un po' stronzo Stavo scherzando Era tutto Non scherzo Era un bellissimo scherzo Va bene Va benissimo Aia Destinato Destinato In eterno A non avere Un set completo Va bene Oppure Io volevo mettere Tutto il set Del cavaliere D'elite Però se facciamo Tipo una robetta Di questo tipo No Ecco Quelli che Mi sa che sono out Provare a mettere Merda Eh no Infatti Sì Ho provato Ora ho messo Quelli Del Nazgul Ed effettivamente Si è Infastrol Quindi Quindi va bene così A sto punto Allora Ok Un po' di confusione Abbiamo E via Se non mi ricordo male Se la mia memoria Non mi inganna Qui in zona Più o meno Tanto dovrebbe esserci Una sorta di Piromanzia Magari non qua Ok Ma di qua Giusto Giurusto Yes Ondata acida Ok Va bene Ed ora Effettivamente Mi posso dirigere In quello Che considero Uno dei posti Più merdosi E schifosi Del gioco Meraviglia Allora Dov'è Sta di qua Sì Eccolo Ci caliamo Nel pozzo E facciamo Una finaccia E facciamo Una finaccia Perché qui Cristina Eh tra l'altro Lo stronzo Lo stronzo Apre pure Le pareti Invisibili Quindi No 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 Non devi ripartire Perché se riparti E' finita Ok Bocca al lupo Io Io odio la zona Perché questi Questi figli Dell'androchia Hanno questo Bruttissimo Vizio Di Ad un certo punto Genkare Attaccare in gruppo Staggerare In maniera Perpetua E continua E non si può Respirare Più Ok La terza No questa è più o meno La Settecento Ventisettesima Run Ecco Su Dark Souls Diciamo che Lo conosco Benino Allora Questa qui Nello specifico Sì lo conosco Benino Però continuo a fare Stronzate C'è proprio E' un marchio Di fabbrica mio La serie Nello specifico Questa qui Che mi sono Passata per la testa L'antologia Del Souls Like Un po' vuole ricoprire Quelli che sono Tutti Souls O tutti Quelli che possono Essere titoli Appunto Souls like No Che escono Anche dal Da Da mamma From Software Del tipo Che so I vari Neon Lords of the Fallen Lies of P Eccetera eccetera Vai via E ovviamente Tutti i titoli From Esatto Sekiro Eccetera eccetera Ma sì Ma sì Ma tutto ci butto Questo è il secondo Che porto Giustamente Perché il primo Era E' stato Quella disgrazia Malefica E bastarda Di Demon's Souls Sì 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 infatti Voglio ricoprirli Un po' tutti E portare anche quelli Che effettivamente Non ho giocato Magari in blind In blind Del tipo Del tipo Enotria Che volevo prendere Al day one Poi però Per un motivo O per l'altro Ho mancato E quindi poi Quale momento Migliore Se non quello Di portarlo In blind A questo punto Sento 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 E infatti Guarda 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 Niente Non Non è possibile Non è possibile Quindi dicevo Quale momento Migliore Se non Poi quello Di portare Altri titoli Del genere Magari anche In blind Anima guerriero Coraggioso Io vi vedo Che state lì Pronti Ad aspettare A coppio Loro camminano A coppio Gli stronzi Camminano a coppio Giustamente Dai Il colpo Me l'ha dovuto dare Il colpo Me l'ha dovuto dare Hai visto mai Oh merda Fermo 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 Grazie Ok Apriamo Sta Sta ciosba Di Di porta E via E quindi niente Comunque portati Nell'ignoranza Più totale Nel mio Nel mio stile Proprio Questo Lo stile Lo stile Del cotone Quindi proprio Senza un criterio Senza una logica E poi Non ci sta Non ci sta Poi l'idea è anche Quella di portare Magari Di fare Delle Challenge run Che Guarda la Madonna Aspetta che qui Che qui parte Qui parte il santo Che qui parte il santo Ok Stavo per dire Challenge run Che so Del tipo Sempre Sono level one Del tipo E Permadeath Quindi Senza schiattare Che la vedo una cosa complessa Del tipo E Che si può fare Di maligno Ma non lo so Ma tutto quello che la mente La mia mente Contorta e perversa Può partorire C'è proprio Tutto quello che posso Sognarmi La notte Arriva a portare Ecco E Cosa ho fatto? Ho aperto il passaggio Giusto Allora Quindi Tornando su Per la scala Cosa abbiamo? Cosa c'è qua? Ok Cioè Oddio Non è che sono morto Tantissimo Sta run Sarò morto Sennò Tre o quattro volte E due per la gravità Maledetta Praticamente Quindi Oddio A livello di A livello di Mortici Ci si sta pure Però Io sento Suoni Poco Poco simpatici Perennemente Allora No io volevo Ok Vedere un attimino La porta C'era qua Esatto 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 Era per questa La chiave della tenuta Allora Ok Guarda che corsetta Guarda che corsetta Atletica Dai Dai che ce la fai Figlio Inchia Aspetta 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 Non lo fare Non lo fare Non lo fare Non sei tenuto a farlo Esatto Uh Avada Se scendo Silenzio Se scendo Mi frego Un attimino Quindi Facciamo le cose Con un certo Merda Con un certo Criterio Telecamera No mi ha sboccato Addosso Lo sapevo E potevo aspettare Per uccidere L'altro Prima di usare Il muschio Io ricordo Che qua scendono Esatto Ste stronze Vero Eccola Hanno un Un dietro Parecchio interessante Ok Ok Vabbè In questa maniera Vengono stunnate Con un minimo di pausa No Ok Ok Ti saluto Devo fuggire Buon run caro Ti ringrazio Ti ringrazio Gorgo Grazie mille Comunque Allora Ricordo La prosaia E Ti sono scuro Grande Ok Allora Ora Ai 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 Ti sono scuro E Adesso voglio scendere Effettivamente Giusto Aspetta O salire Che c'era qua Morte Morte Disperazione Qui Voto del Cazzo Non voto del cazzo Nel senso Voto del silenzio Via loro Questa leggera pausa Si fa tutto La calma E la virtù Dei forti Esatto 2000 anime Così A gratis E si continua Mi sa che è arrivato Il momento Del culo Di drago E' il Cioriso Del dragon Eccolo Non te temo Vieni Che sei triggerato Ti sei triggerato Ora si Scudo del sangue Via Ok Dai Fai qualcosa Fai qualsiasi Merda Che mi ricordo Che stando In un punto Preciso Questo tipo Ok Non può fare Tutta sta grande roba Lui Ma Ma tipo Perché Ma tipo Perché Cioè Ma tipo Perché Non Ma perché Non me lo merito Non penso di meritarmelo Onestamente Cioè Non Ma una tristezza Nell'anima addosso Guarda sti figli Di una maledetta Falange Va bene Fate dove vi porta il cuore Io comunque Io comunque Sono allibito Per quello che è successo Io muoio Solo Ed esclusivamente Per la minchia di gravità Sui souls È incredibile Questa roba È un po' perché sono stronzo Io di natura È incredibile Questa roba Davvero Cioè Sono Senza Parole Va bene Va bene così Mi è piaciuto davvero Questa Questa schiattata Questa morte Porca Mignotta Va Torniamo dove eravamo prima Clamoroso Ah del clamoroso Cioè Mi ha tirato giù di sotto Praticamente Va bene Che 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 proprio Che Che sbrattata Che sbrattata Va bene Va bene Dai Torna Vedi che devi fare Ed evita di farmi girare Le palle Stavolta Cos'è che mi ha danneggiato In che modo Mi stai danneggiando Esattamente No per capire Più che altro Magari evitiamo Di ricascare Di sotto Come le Come le perecotte In questo caso Ma in cosa Mi sto bloccando Esattamente Come cazzo È possibile Oh non è mai successo Io non ho mai visto Una roba del genere Succedere in questo gioco Mai vista Non ho mai visto Una cosa del genere Su questo Minchia di gioco Mai vista Mai vista Non sono mai morto In questa maniera Oh Gesù Santissimo È una È una tragedia È una È proprio una disfatta Nel cuore Nell'anima Una 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 stanchezza Oh Gesù Non ho le Non ho le Le parole Cioè non ho Faccio una Fatica Scandalosa A descrivere Queste disgrazie Ma io direi Di buttare Forza interiore Perché Frutto tattico Va bene Mi hai colpito Ma No ragazzi Scusate Adesso Adesso Parlando in maniera Seria Giusto Adesso Parlando in maniera Più o meno Seria No Cosa cazzo Sta succedendo Cioè Non 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 c'è più Religione In questo gioco Evidentemente Non sto capendo Che cosa Cosa mi vuole Comunicare Il gioco Effettivamente Cioè C'è un qualcosa Che mi vuole dire Sono dei messaggi Che mi vuole lanciare Perché io sto vedendo Cose più o meno Assurde Che non ho mai visto In dieci anni E passa Che gioco Sta roba Non Tutte ora Succedono In live Cose mai successe Succedono tutte ora In live Questo è il bello Della diretta No D'altronde Va bene così Ti vuoi muovere Che hai rotto già Le hai abbastanza rotte E continui Nel tuo Nel tuo rompere Vedi che devi fare Dai Dai Forza Dai Ora magari Quando vedo Che già comincia A fare Un certo tipo Di movimento Si percepisce Si percepisce Che sto un attimino Tiltando Si percepisce Si sente Nell'aria Quella sensazione Di Hai rotto Tre quarti Di cazzo Giusto E percepibile E nell'aria E nell'aria No l'importante E che nell'aria Effettivamente Facciamo una cosa Ti do un colpo E proprio Cambio gioco Direttamente C'è noi che mi allontano Cambio gioco Direttamente Passa ad un'altra cosa Che non è possibile In questa maniera Cioè voglio dire Mai vista Una roba così Mai vista Va bene Dai Che schifezza Che sei Che schifezza Che sei Che disgrazia Ok Posso Darti Non a una mano Allontaniamoci Per l'amor di dio Allontaniamoci Che evidentemente È così che funziona Ora da questo lato Ora magari Ah che Continua da quel lato Ecco Colpisco il muro Colpisco Colpisco il muro C'è giusto Io non ce l'ho Con questo Con questo schifo Di robo qua Però C'è un minimo Dovrebbe avere senso Come discorso Ok Dai Ok Ti prego Schiatta Quanto ti ci vuole Perdonami No Per chiedere Non è possibile Ma ancora Non sei morto Io non Io non Non sto capendo Non sto capendo Giuro Faccio fatica Mi sto sentendo Rincoglionito Puoi crepare Porca merda Veramente Solo ora E' schiattato Scaglia di drago Va bene E qua abbiamo Il culo di drago Bene Ok Via Pfff Sta roba è abbastanza Inguardabile Però va bene Danni Sembra abbastanza Contenuti Devo dire Aia Questo è Un bastardo Sono da questo lato Sono di qua Ehi amico Non mi stai vedendo Ok Facciamo un R2 Tattico Ok Prendiamo di R2 Ok E via di Schiatto Ti tenite grande Va bene Adesso La nostra Cara E vecchia Priscilla E chi sono Uno stronzo Ottima ventriloqua Priscilla Ok Ma allora Con quella falce Non è che Tu dia l'impressione Di essere Propriamente Gentile Voglio dire E ho capito E va bene Facciamo una cosa Siccome Come a me Queste Queste minacce Non piacciono Ti è Eh Me l'aspettavo Da te Va bene Aspettatelo Modo stai Dove sei Ok Eccoti Eccoti No Liscio Ok Ok Ce la facciamo a tagliargli Sempre per il completismo Ok Pugnale Let's go Let's go Poraccia Priscilla Stavo scherzando Era uno scherzo Perdonami Mettiti di qua Perché sei in una zona Abbastanza antipatica Per combattere Onestamente Ok Va bene Ciao ciao Orgasmo finale Che cosa cerchi? Quello che non cerchi tu La roba di Xanthus La roba di Xanthus Che teoricamente A livello di Non è che magari riesco a Tenerlo Nada Scherzavamo Mettiamo di nuovo i guanti neri E finalmente possiamo uscire Da questo posto Drammatico Giù di sotto Ok Ma se uso un osso di ritorno Qua dove mi porta Ho fatto una cazzata Forse Ah ok Ok Meno male No Mi era venuto il dubbio Però Per fortuna Usiamo queste animelle E aumentiamo di livello Poi Ovviamente Mi ha tolto la schermata Grazie E ok Eh si può fare un Qualche livellino Ah oddio Ancora in realtà Ma sapete che sia Peso Sia vita Ancora Ma In realtà Stamina a sto punto Direi Vediamo Dov'è Ma è abbastanza Particolare Come roba Va bene Mettiamo quelli di Xanthus Eh Quelli di Xanthus Vanno bene Va bene E via Stavolta si Che effettivamente Ci possiamo Intrufolare Ad Anor Londo Problematica Come roba Però va bene Però va bene Allora Ok Stavo controllando Un attimino Basta Basta Si è buggato Qua il Ok Si stava Buggando tutto D'accordo Ci siamo E realmente Pensavo di aver raggiunto Una sorta di cap A A vita e stamina Però ancora vanno Ma allora Considerando Se Magari La Claymore Avesse scalato In maniera migliore In quella Che poteva essere La forza Che so Anziché C Andare anche Semplicemente Su una B Che ripeto Non so se aumenta Non mi ricordo Se aumenta La Claymore Aumentando Magari Portandola Più 10 O addirittura Poi anche Più 15 Poteva aumentare Lo scaling Non lo ricordo Però anche solo Con un B A forza Avrei aumentato Ecco Avrei aumentato La forza In questo caso C Mi mantengo Sulla Sulla vita E sulla destrezza Sulla destrezza Scusate Sulla Stamina Quindi va bene Ok D'altronde L'idea mia Bastarda La miseria No non è Bastarda La miseria Non è un'idea Mi piace come loro Hanno le ali Volano effettivamente Però se li tiri sotto Muoiono Meraviglia Ok 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 No scusate 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 Alt 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 Ferma tutto Ferma tutto Ferma tutto Ferma tutto Un attimo Cosa 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 è successo Ho preso Ho preso un danno Senza senso Cosa Cosa è successo Lì Scusate Cosa Mi ha danneggiato Boh Vabbè Ecco la parte Una delle parti Più belle del gioco Gli ombrelli Dianor Londo Oh madonna Sta Sta parte Ok Ora Qual'idea È di spostarlo Con un perry Non devi usare L'arco Ti sto davanti No No Ok Qua ci vuole Calma Titanica È vivo Non ho parole Ok Dimmi che sei morto Cortesemente Grazie È andata È andata In maniera Meravigliosa Di lusso Direi Che cazzo botta Che ho dato al controller Sorry Ed eccoci dentro Proprio la cattedrale A questo punto Chi è il mio Sanbro preferito Eccolo Come andiamo Come andiamo Sì Torniamo Umani E ravviviamo la fiamma Attimo mi sto sgranchendo Aiuto Ok Ravviviamo E torniamo sui nostri passi Ok Allora Anor Londo Anor Londo Anor Londo Salve Vieni stunnato Vieni stunnato Grande roba Tre medaglioni del sole L'ho dato il sole Bastardacci Ok Un altro Avere tanta stamina Vuol dire poter dare tanti colpi Che è una roba molto importante Cheat Fulmicotone 2024 Allora Aia Cazzo me lo sono ricordato ora No A calci Non si danno i calci Alle persone Ok 2000 anime E Randello occulto Cioè fateci caso Tutte le morti che Mi sembra Di essere morto Non dico solo ed esclusivamente A causa della gravità C'è stata la morte che ho fatto all'inizio Con il cavaliere nero Per 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 Recuperare Almeno Nella speranza Quella era Di recuperare L'alabarda Del cavaliere nero Che poi non ha droppato Perché poi ho una fortuna Abbastanza importante Sempre Quindi Cippalippa Ehm Ok Allora Qua Salve No Liscio Che palle Che sei Ok Ok E che se ogni tanto Droppate Mi Pot Cioè Va benissimo Potete anche droppare Non mi offendo Voglio dire Va Mimic Yes Hola Ok No Ullalalala Yes Moneta d'oro Cos'è stato? Ah un cavaliere Altro Mimic E qua c'è la compilation di Mimic Tutti i Mimic di Dark Souls Sono concentrati ad Anor Londo Mi è piaciuto davvero Questo attacco tuo Mi piace molto anche che i miei colpi passino attraverso i nemici Cinque monete di argento Questa non si apre da questo lato Ma questa si apre Eh T'è vista la spada Che fai? Gli scherzi? Pensi di fare questi scherzetti? Mi fai a me Amico Quindi Torniamo Sulla Backstab Facciamo alzare E lo prendiamo di R2 Adesso Eccolo Eccolo Eh Ah You again E' un problema E' un problema Risolviamo il problema Come sono messi? Ah uno è qua Merda Merdaccia mi ha dovuto colpire E gli altri due Eccoli E occhio a questi Perché Meno Meno male che Si è triggerato solo lui Ok Lui è andato E' l'ultimo Ok Sig Abbiamo risolto Il problema Questo? No Ok Ti tenete Il demon E due Ok E questo è una shortcut Ci siamo Grazie Va bene La prossima volta Ti faccio scogitare Il piano Dai Ula Ula Ok E via E qua ci siamo Adesso Aia Ecco cosa ci stava qua Questo è un grandissimo stronzo Ah il danno però Praticamente inesistente Ok Bello tosto Sto demone della Merda Ecco E questo potrebbe Schiattare No Allora il rischio di sti Maledetti E che possano bloccare Negli angoli E diventa un dramma O comunque E' un dramma Per come si muovono Effettivamente Anche perché Il loro danno E' bello alto Ok Il trucchetto E' sempre quello Di provare a stargli Sulla destra Non esiste Sto danno Cioè questi danni Non esistono Va bene Oh Bello 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 Ad esempio No Ad esempio No Questo è quello che intendo Ma davvero Ma davvero Ma davvero Ma io vi giuro Io vi giuro Io Io di stronzate Su questo gioco Ne vedo Giornalmente A bizzeffe Però Questa è proprio Una roba Senza Senza Una logica Cioè Questa non ha logica Questa non ha logica Cioè A parte I danni E va bene No ma non lo ricombatto Perché Onestamente Riprendo le anime Non ne vale la pena Non ne vale minimamente La pena Guardate Se è per avere Delle titaniti Del demone Che non Che per quello Che devo fare Non servono nulla Sti cazzi È una certa Onestamente Sti cazzi Perderci solo tempo No Mi dà onestamente Fastidio Quindi no Questo no Morire Perché devo combattere Contro qualcosa Che onestamente È sviluppato male Perché mi dà proprio L'idea di essere fatto male Il demone della titanita I danni Ripeto Non ne parliamo Roba vera Atroce 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 Quindi Bene così Mi va benissimo Così dai Ora sapete che è molto facile Che io possa morire A causa di un possibile Di una possibile Incazzatura Speriamo di Piano E ok Io mi curerei Anziché usare La fiaschetta Una bella Umanità Ok E via Ah come siete posizionati Bene comunque Ok No ma per favore Ma perché queste stronzate Va Prendiamo le anime Nuovamente E se vediamo Che onestamente Ripeto Di combatterti Non ne ho la minima Intenzione Ma è rappresentativa La quantità di pozze Di sangue Che ci sono lì dentro Già Quella è una minima Indicazione Su quello che vuol dire Combattere Quello stronzo Quindi veramente Non Dai Va bene così Ora abbiamo qua Un altro fenomeno Ok Uh Questi non sono Giusto No ok Non sono Mimic Combattura Cavalieri d'argento E praticamente Il set Esatto Dei cavalieri d'argento E questa È una shortcut Ok Eccoci qua Allora Di qua Si scende E via Recuperiamo Vabbè L'arco potente Dell'ammazzadraghi Scendiamo di sotto Non lo colpiamo Nemmeno per sbaglio E prendiamo pure Il danno Nel compenso Va bene Che soddisfazione Tutto quello che succede Su Dark Souls Va bene Un'altra cosa Che io critico All'infinito Su Dark Souls Ma è Una cosa Che mi dà Parecchio fastidio È la schivata Durante il lock Che copre solo Le quattro direzioni Avanti Indietro Destra Sinistra Cioè io non posso Schivare In maniera obliqua Diagonalmente È una cosa davvero Problematica Pezzo di titanite È sporco Ma giustamente È un gioco Ci sta Dai Pecche di sviluppo Che però hanno fixato Nel tempo Con gli altri titoli Quindi GG Adesso Adesso Quasi qua Se mi fa tenerezza Se vuoi te lo compro Uno sgabello Un po' più grande Cioè Eh Who are you Parlami E intanto ripara Bello pure tu Comunque Io non bravo Molto bravo Vabbè Tutti i partiti Direi a sto punto Potenziami Questa più dieci E poi mi serve Quello gigante A proposito di gigante Lui dovrebbe vendere Esatto Il set del gigante Che però Diciamo che Già in In base a come sono messo Con il peso Non arrivo a mettere Quello del cavaliere D'elite Ma il set del gigante Domanda 11.7 No beh Chiedo così A livello proprio No no Già sforiamo Anche se Ma Posso dire una cosa Dovrei andare in midroll Giusto? Teoricamente Dovrei stare Dovrei stare nel midroll Corretto? Vediamo Se ne vale la pena Dov'è? Se ne vale la pena Va benissimo Ma sai che 91 equilibrio Io penso Ne valga Completamente La pena Quindi Teniamo la roba Del gigante E via Si cazzo Allora Anche perché A livello di equilibrio È molto più performante Rispetto A quello del cavaliere D'elite Ma prima di evocare Il nostro amico Vorrei far fuori Questi signorini Ecco che Già questo Si è messo In una posizione Abbastanza scomoda Va bene Così Cominciamo a fare Cose che non hanno Senso Dai Cominciano a succedere Cose che non hanno Un minimo di senso Va bene Non mi posso muovere Mi ha bloccato Ma io dico una cosa Ma come cazzo È possibile Che ogni cosa Deve essere Problematica E drammatica Come è possibile O muoio perché Mi incastro O muoio per Il danno da caduta O muoio perché Il gioco è stronzo C'è sempre Qualcosa di particolare Va bene Torniamo Dove eravamo Prima E va bene Così Eliminiamo lui E via Allora c'era un modo Per arrivare prima Quello teoricamente Di saltare Esatto Da questo lato Ok Perfetto Non riesco a muovere Per me è pazzesca Sta roba Io non sto vedendo Una sega Comunque C'è Non vedo una minchia Non vedo Non riesco a vedere Una minchia Non riesco a vedere Onestamente nulla Pazzesco Ma davvero deve essere Così complesso Deambulare A tratti In questo gioco Eh ma non è manco Possibile Non vedo Non vedo Non vedo Non ci posso fare Niente Cioè Non ci posso fare Nulla Non ci sto potendo Fare nulla Non vedo Vediamo se magari Riusciamo un attimino A fare qualcosa Va bene Va bene Ok Non ci devi provare Sai Ok Oh Finalmente Lo possiamo evocare Solaire E che cazzo Eh sì A dire Nel frattempo Apriamo anche La shortcut E ok Ai ai Mi avvicino un attimo Ok Uh Andiamo Sandbro Ma io ho il gesto Dov'è? 15 in basso No 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 Si è lodato il sole Adesso Adesso abbiamo Praticamente La rappresentazione Soulslike Di Gianni e Pinotto Oristanlio e Olio Punti di vista Uh Let's go Uno più stronzo Dell'altro Via Ula Ok Ok Hornstein Distrutto E adesso E adesso Aia Vieni a me Do stai Ah là Ok Vai Solaire Uh Non ci provare Sai Ok Stannalo Stannalo Ok Bellissima roba Questa Sambro Cooperation Questa Jolly Cooperation Grande Metaglione del sole Umanità Animali Smog Ok E' andata Ah Piccolo ascensore Guarda che Marchingegno Avanzato E via Si accende il falo Si livella un attimino Intanto sediamoci Allora Lo sta Anime ne ho Una Ah di un eroe Ok La usiamo Non è male Premo sempre triangolo Convinto Convinto possa essere Elden Ring E Allora Allora Ok La stamina è cappata A 40 Ok E vabbè La vita La vita che porterei Mmm Non lo so La vita Proviamo poi a portarla pure A 40 E' buono E vabbè Eeeh Ok Adesso Adesso Qualcuno dirà Ma scusami Dopo aver combattuto Questa doppia boss fight No Ci sarà una qualche forma Di Di ricompensa Qualcosa che un attimino Va a premiare il giocatore No Un minimo C'è la ricompensa Non è niente male Come ricompensa Però mi serve Il binocolo Eh Beh E' una grande Ricompensa E' una grande Cioè Ricompensa Io ne vedo due Forse sono anche tre Vabbè Va bene Guinevir La figlia del sole Ai ai E che figlia Grazie Cioè normalmente dovrebbe essere questa la ricompensa Per quello dicevo tre ricompense Succeed Lord And Inheritivo Provider Of our world Ok Eh beh E che fa Te ne privi Te ne privi Anello principessa del sole Fatto stabilito Ok ok e la vita che ti sostengono senza il fuoco, tutti saranno un friggio e combattono per la scuola. Scusate, il ruolo del padre, tu dovresti finire questa eterna twilight e avvertire più forti sacrifici. Il serpente primordiale ti guida. Ok. Va bene. E... Va bene, vado, vado, vado. Scusate, un momento di... Va bene, va bene, andiamo, 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 dai. Ok, andiamo. Vedete, c'è il controller che ho, che problema di... Va bene, va benissimo, dai. Allora... Quindi... Il ricettacolo, la meraviglia del ricettacolo che è effettivamente la ricompensa. È effettivamente la ricompensa e che ci permette ora di teletrasportarci tra i vari falò. Cosa è... cosa santa, non buona, santa, praticamente. E... Allora, intanto devo andarlo a posizionare, giusto? Intanto si deve andare a posizionare. Quindi andiamo. Allora... 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 Non importa, cose strani che succedono, a volte l'unico ha dovuto dargli un po' di tempo Non voglio prendermi il merito, è tutta opera di Sig Bello, bello, secondo sei bello Va bene E andiamo a posare il ricettacolo Dicevo, sì Ah, questi versi idilliaci Va bene E sta esultando, penso stia esultando È un modo per... Ah, sì, sì, stava proprio... Sì, era proprio emozionato, ok Va bene Ecco Giù di sotto Gnammete Che bellezza E mi sbocca Grazie Gentilissimo Gentilissimo, gentilissimo Guarda che bellino quell'orecchia O sono i baffi Non ha orecchie Non ha orecchie, magari sono baffi Non ho mai fatto caso Capito la loro conformazione Vabbè, in base a dove stanno Quello è il naso E sembrano baffi Effettivamente Interessante Posizioniamolo Eh sì Ok Ok Perfetto Allora Fatto questo Ora è da capire come mi voglio muovere Il piano d'azione Perché siamo ufficialmente entrati In quello che rappresenta Diciamo l'endgame di Dark Souls Però c'è il DLC nel mezzo Ora se io voglio eseguire un ordine Un po' più sensato Quello che dovrei fare Andare Per sit Il senza scaglie In modo anche da recuperare il pendente E poi Entrare in quello che è il DLC Ha senso come ragionamento Quindi per ora Ok Facciamolo in questa maniera Anur Londo Biblioteca del Duca Archivi del Duca Pendente Prima voglio finire la zona Comunque Degli archivi No Oppure Oppure prendo il pendente Poi Si va direttamente nel DLC Ma facciamo così Prendiamo il pendente Andiamo poi nel DLC Famola Famola Cattiva A questo punto Voi Ragazzoni Ok Tiriamoli uno per volta Così almeno abbiamo La parità del combattimento La parità numerica Devi saltare Giustamente Devi saltellare Vi rompere le palle Fino all'ultimo Troppi No Va bene Scherzavo Ok E ok Questo è un mimic Ok Questo no Titanite Scintillante Alabarda di cristallo Un altro di questi Stronzi Ok E via Salve Il ritorno Dei maialozzi E questi sono Tostarelli Perché non hanno Il pertugio Più che altro Oh bastardo No Non devi scherzare Così però Scherziamo Ok Non hanno il pertugio Quindi si devono combattere In maniera Legit Diciamo No Aia No 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 Sta caricando Ma Curiosità mia L'armatura Del cazzo Nella 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 Sister Seer Non dovrebbe essere Più resistente Rispetto a quella Del cavaliere Il set Cioè Non è che sta dando Tutta sta St'impressione Di resistenza Va Wow Rai Già Ok C'è il secondo Maialozzo Salve Ok Povero Disgraziato Pazzito Quest'uomo Dai Ultimo colpo Perfetto Ok Accendiamo il palo Ci sediamo Perché a questo punto Posso sedermi ovunque Grazie alla possibilità Del teletrasporto E si sale Questi sono tosti Questi normalmente Sono tostarelli Aia Ok Ok Madonna la freccia E il danno Che fa Ma considerando Sempre il set Che ho Per questo dico Però l'equilibrio Importante Sempre devi rompere Il cazzo Perché Altrimenti Non vai tranquillo Guarda Ok Madonna no Sono anche potenziati Loro Terribile Terribile Questa roba Dai Minchia Clamorosi Ah direi Combattiamo Il golem Ed entriamo Effettivamente Nel DLC Questo è il piano Ok Pendente rotto Per ora via Da qui Ok 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 Allora Allora Comune dei non morti Comune dei non morti Andiamo Andiamo Let's go Palla è la strada Che uno deve fare Ogni volta Ok 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 Questo lo eliminiamo Questo lo eliminiamo Perché potrebbe essere Una rottura di palle Lo sei comunque Che palle Ula Madonna Stavo cadendo Allora Scendiamo 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 Aia 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 Nei danni Sì Allora il DLC Oddio con una Una Claymore più 10 Vediamo un po' Potrebbe essere drammatica come roba poi Tutto da scoprire Forse Sto pensando La cosa più comoda magari E arrivare a prendere Poi No vabbè Stavo pensando di andare prima a Petit Londo Per recuperare il tizzone gigante In modo da avere L'arma potenziabile Al più 15 effettivamente Però Vabbè Madonna che lentezza dai Eccola l'entrata Via Ok Eh ok Ed eccoci Giardino del santuario Io mi siedo un attimino E ci prepariamo allo scontro Quindi Forza interiore E via Aiuto Guardiano del santuario Ok Magari colpiamolo infatti Ah brutto movimento No 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 C'ho morto Non è vero Sì ho capito però Madonna che movimenti di merda che c'ha Fai in midroll contro di lui È un dramma Non mi Non riesco a colpirlo Non riesco a colpire Avvelenato Bene Non lo riesco a colpire Non lo riesco Non riesco a stare in piedi Pazzesco Non riesco Cioè io vorrei tankare Sì ma Mi sta sembrando abbastanza complessa Come roba Ok Non riesco Stare in piedi Brutto roll Va bene Va bene Non riesco a vedere una minchia Che brutta roba comunque Dovrei usare una Non dal lato lungo Ci sto andando Dai Ok Dai che ce la possiamo fare Porca miseria Mamma mia Il danno Dai Dovrei esserci Non è vero Oh ma ci rendiamo conto Che non riesco a hittarlo Per favore E per favore Cazzo Madonna che fatica Anima del guardiano E umanità D'accordo Nel frattempo sono avvelenato Quindi rischio addirittura Di schiattare dal veleno E muoviamoci un attimo Anima del guardiano Anima dello stronzo Che è Santuario di Hulazil Ok Sediamoci Calma adesso Intanto io questo si Si Deve ravvivare Necessariamente Allora Si può livellare Animelle Un livello Un livello Wow Poi mi ricordo Che c'era qualcosa Eh il DLC è Tostarello E qui l'umanità Ok Salve Salve Well look at this one From what far away of age Has thou come Thy scent is very human indeed But not intolerable Ah 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 Princess Dusk's savior Thine aura is precisely as she described I thank thee deeply for rescuing her highness But Princess Dusk is here no longer Snatched away by that horrifying crime evil human And so I must ask Couldst thou once more play the savior? Certo Certo Elisabeth Lei vende Sì esatto Sempre le magie Che alla fine vendeva anche Dusk E il catalizzatore Che vendeva Dusk Thou shalt see further on An abyss was begat of the ancient beasts And threatens to swallow the whole of Ulisir Knight Artorius came to stop this But such a hero has neary a murmur of dark Without doubt he will be swallowed by the abyss Overcome by its utter blackness Indeed The abyss may be unstoppable Still I have faith That Princess Dusk May be rescued yet E sperè Thou shalt see further on An abyss was begat of the ancient beasts Vabbè stessa cosa Indeed Still Bene Quindi La nostra missione Per quella che sarà la prossima live È quella di Effettivamente salvare la Principessa Dusk In questo caso In quello che è il DLC A questo punto signori Come sempre No Io tanto ringrazio Chi Si è unito In live Chi Recupererà il tutto a parte Chi Sempre Supporta Nei vari social Nella real life E E questo Oggi Come avevo già detto Ci sarà effettivamente anche L'appuntamento pomeridiano In questo caso Quindi doppia live Doppia smandrappata Dalle 4 alle 9 Pomeriggio No Che cazzo sto dicendo Dalle 4 alle 9 Scusate Dalle Eh pazzo Dalle 4 alle 7 Dalle 16 alle 19 Perdonatemi Con Si continua con L'Evil Saga Si continua con Resident Evil 2 Possibilmente Si potrebbe anche Terminare Non so In base alla Ritmicità È da capire E E questo Per il resto Da Elizabeth Dal buon Fulmicotone Un po' Più bardato Del solito E dal Ria Al Fulmicotone E da Dark Souls Ah beh è tutto Ci si becca di pomeriggio A dopo Perdonatemi Grazie.